Benvenuti nello speciale Opere Prime, dove si analizzano i film che inaugurano la filmografia di un determinato regista. Il film di oggi è Strade Violente di Michael Mann. Cominciamo! Questo Strade Violente è a metà strada tra il noir tradizionale, infatti la narrazione non aggiunge nulla di nuovo a questo genere, con però personaggi atipici talmente ben caratterizzati che fanno fare un salto di qualità all'opera. Il problema più grande si riscontra quando i personaggi agiscono in un contesto non così originale come quest'ultimi, soprattutto nel finale che risulta telefonato e già visto. Invece il modo con cui la narrazione prende la piega delle East Movie, scardinando la realtà del personaggio principale e interessante, perché l'esperiente utilizzato è correlato con la casualità che ci fa capire come la vita del protagonista è in balia di eventi che si generano imprevedibilmente e che scateneranno conseguenze più grandi di lui. Il personaggio, interpretato da James Caan, magistrale come sempre, è un uomo che per scelta vive nel mondo della criminalità e si rapporta con essa con professionalità. Professionalità che gli permette di osservare la società che lo circonda con disprezzo, odiandola per le sue ingiustizie. Quello che il protagonista fa per vivere ossia il rapinatore viene considerato da lui alla stregua di qualsiasi altro lavoro e quando incontra una donna e se ne innamora è interessante vedere la sua lucidità nel raccontare a quest'ultima la sua vita senza mentire in alcun modo perché non vuole rinunciare a questo sentimento nonostante il suo modo di vivere composto da furti e violenza. Questo concetto è trasmesso da una recitazione sopra le righe ma allo stesso tempo umana che ci fa capire come sotto la facciata di un rapinatore ci sia un uomo pieno di emozioni sincere. La sua determinazione in quello che fa però lo porta a delle scelte che a loro volta faranno scaturire eventi capaci di far sparire tutte le sue emozioni di cui abbiamo precedentemente parlato. Ed è qui che l'impronta noir del film si fa sentire ma non in modo originale. I temi sono i soliti, la mancata retenzione, l'uccisione di qualcuno di caro al protagonista e la vendetta che coincide come di consueto con la frattura con se stesso e con gli altri. La resta dei conti quindi è scontata e sente il peso degli anni soprattutto nell'uso del sangue che sembra finto. C'è da dire che nonostante la prevedibilità e la classicità degli eventi si mantiene una suspense costante. Questo strade violente ha dei punti in contatto con i successivi film del maestro Michael Mann tra cui proprio il comportamento del protagonista sempre in bilico tra amore e rispetto per quello che fa caratteristiche che lo distinguono dai villain di turno ovvero criminali senza scrupoli a cui Mann si diverte ad attribuire ogni tipo di atteggiamento negativo. Ricordiamoci che vengono ditte la sfida, traitore, serial killer, vigliacco e con propensione impressionante all'omicidio. Quindi in quanto a carattere sono molte le somiglianze dei personaggi di questo film e i personaggi dei suoi lavori successivi. Solo che se in questo strade violente la narrazione rota attorno ad un solo personaggio nei futuri capolavori del regista si mettono a confronto due personaggi l'uno specchio dell'altro. Le caratteristiche di cui ho già parlato si ritrovano in entrambi e questo mostra come il bene e il male possono essere intescambiabili. Proprio per questo il cinema di Mann si è evoluto anche da un punto di vista narrativo presentando film dopo film trame sempre più complesse. Caratteristica che si ritrova in Man Hunter, uno dei suoi più grandi capolavori è l'utilizzo estraneante della musica jazz nelle scene in cui non ce lo si aspetta come possono essere le sequenze d'azione e le sequenze in cui si attuano le rapine. Detto questo, strade violente è un buon film con aspetti importanti per la carriera di Michael Mann. Da vedere!